Super bonus, ecco tutto il sistema di controlli che rende molto difficile eseguire delle frodi fiscali in ambito super bonus. Qualche giorno fa ho pubblicato un video in cui dicevo che, cosa che ho affermato, che ho affermato da oltre un anno, affermavo che le frodi fiscali imputabili al super bonus sono molto molto limitate, sono molto poche, e subito mi sono arrivati tanti commenti in cui mi si dice, ma ingegnere guardi in realtà i controlli non ci sono mai stati, non ci saranno, altrimenti verrebbero rilevate troppe frodi fiscali e in realtà il super bonus è pieno di frodi, cioè è pieno di casi in cui si è frodato lo Stato relativamente a incentivi super bonus. Premesso che non capisco bene come si faccia ad affermare che non ci saranno dei controlli, chi può dire che nei prossimi anni l'agenzia delle entrate non farà dei controlli per verificare se effettivamente l'accesso al super bonus è avvenuto in maniera corretta o meno? Io non credo, io credo che invece i controlli ci saranno e saranno molto capillari. Detto questo, i dati riportati anche dalla Guardia di Finanza aggiornati a giugno del 2023, quindi un paio di mesi fa, dicono che del totale dei lavori incentivati tramite super bonus sono state riscontrate frodi fiscali per uno 0,5%, quindi una percentuale veramente molto molto bassa, soprattutto se paragonata con altri bonus fiscali, che invece sappiamo benissimo sono stati oggetto, o meglio, sono stati caratterizzati da tante frodi fiscali. E parlo, come dico sempre, dei bonus facciate e dell'eco bonus ordinario. Detto questo, voglio dirvi perché il super bonus invece è un tipo di incentivo completamente diverso, per il quale non dico che è impossibile, ma è molto molto difficile che vengano eseguite delle frodi fiscali. Infatti il super bonus ha il grande merito di aver introdotto, diciamo, un punto di, se così possiamo dire, un punto di vista completamente diverso dell'incentivo statale e con il super bonus sono stati introdotti dei sistemi di controllo che lo rendono molto difficili e mi riferisco all'asseverazione e congruità delle spese, al visto di conformità, che prima non c'erano, e l'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi. Questi sono tre tipi di, diciamo così, sistemi di controllo che rendono molto molto difficile realizzare delle frodi fiscali. In pratica, in precedenza, che succedeva? In precedenza veniva praticamente fatto riferimento a quello che era semplicemente le spese che venivano sostenute, ora bisogna fare riferimento a quello che è il preziario di riferimento. Ma detto questo, voglio spiegarvi bene in che cosa consistono. Mi chiamo Andrea Ciprian, sono un ingegnere, da oltre dieci anni lavoro nel settore immobiliare e dell'edilizia. Prima di iniziare questo video ti chiedo di iscriverti al mio canale YouTube e cliccando sulla campanellina rimare aggiornato sull'uscita dei prossimi video. Se vuoi puoi anche decidere di abbonarti al canale se vuoi sostenere il mio lavoro online. Nei link in descrizione trovi tutti i vantaggi riservati agli abbonati. Adesso ti chiedo di mettere un bel mi piace, condividi il video e vediamo di cosa si tratta. Come detto, i tre sistemi di controllo fondamentali che rendono molto difficile eseguire delle frodi fiscali sono il visto di congruità delle spese, l'asseverazione di congruità delle spese, il visto di conformità e l'asseverazione del rispetto dei requisiti minimi. Che cosa sono? Allora, asseverazione di congruità delle spese, forse è la novità più importante che è stata introdotta, è un'asseverazione mediante il quale un tecnico abilitato, che può essere un ingegnere, un architetto, un geometra, deve praticamente asseverare che la cifra che viene chiesta, le somme che vengono portate in detrazione o per il quale viene richiesto l'incentivo, siano congrue rispetto ai lavori che sono stati eseguiti. Quindi, utilizzando la congruità, deve essere verificata utilizzando un prezzario di riferimento. Questa è, come ho detto, la più grande novità probabilmente introdotta con il super bonus, perché prima invece si faceva riferimento solamente alle spese sostenute. E da qui sono nate tutte quelle frodi di cui spesso si parla, quando è stata praticamente, diciamo, con il governo Conte 2, era stata estesa la possibilità di utilizzare cessioni del chiedo e sconti in fattura anche con bonus minori, come il bonus facciato e l'eco bonus, in cui non era necessaria questa asseverazione. Lì i prezzi schizzavano e venivano chiesti, diciamo, venivano portati in detrazione o chiesti degli incentivi per dei lavori che in realtà avevano degli importi molto più bassi. Il secondo, diciamo, la seconda asseverazione è quella del rispetto dei requisiti minimi. In pratica, nel caso di super bonus, riferito al, parliamo di super ecobonus, quindi interventi di riqualificazione energetica, il rispetto dei requisiti minimi, quindi il famoso salto delle due classi energetiche necessario, quindi ci deve essere un tecnico abilitato che può essere il progettista, il direttore dei lavori che attesti che quei lavori eseguiti e incentivati devono aver portato al salto delle due classi o, laddove non è possibile, ad esempio perché l'immobile è già in classe A3, il salto di una classe energetica. Ovviamente nel decreto requisiti minimi vengono anche definiti in maniera puntuale tutti gli adempimenti che devono essere soddisfatti, che sono degli adempimenti molto importanti e molto fitti, quali sono? Depositare in comune la relazione energetica, per esempio, acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che deve attestare la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti, bisogna acquisire l'attestato di prestazione energetica, dove è previsto acquisire una dichiarazione da parte del fornitore delle valvole termostatiche. Ovviamente tutti quanti i pagamenti, ad eccezione del caso in cui si benefici di sconti in fatture e eccezione del credito, devono avvenire sempre con il bonifico parlante, conservare tutte le fatture, trasmettere all'Enea entro 90 giorni, dalla fine dei lavori, i dati contenuti nella scheda descrittiva che contene praticamente tutti quanti i modelli, insomma tutta una serie di adempimenti molto molto importanti, molto fitti, non scendono troppo nei particolari. Ed infine il terzo documento importante è il visto di conformità, visto che solitamente viene rilasciato dal commercialista piuttosto che dal CAF nella trasmissione che viene fatta all'Agenzia delle Entrate, bisogna avvistare, questo è un documento obbligatorio, visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza di tutti i presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta. Ovviamente questa dichiarazione potrebbe essere fatta anche direttamente dal contribuente, in questo caso il visto di conformità non serve. Quindi questi sono i motivi per cui secondo me è molto molto difficile, o comunque è sicuramente molto complesso realizzare delle frodi fiscali in ambito super bonus. Ci sono questi tipi di documenti che prima non erano assolutamente richiesti, diciamo relativamente a altri bonus, asseverazione di congruità delle spese, visto di conformità e asseverazione del rispetto dei requisiti minimi. Questi sono tre sostanzialmente sistemi di controllo che rendono la possibilità di frodare lo Stato molto difficile. Certamente ci sarà chi ci ha provato e chi ci proverà poi, c'è anche tutto un sistema di controlli effettuati da Agenzia delle Entrate, Guardia di Finanza, che ovviamente laddove vengono rilevate delle frodi fiscali farà il proprio dovere, e quindi chi froderà lo Stato incorrerà nei rischi previsti della legge. Però bisogna dire che questo tipo di incentivo, se paragonato agli altri, sicuramente ha reso la vita molto molto più difficile a chi aveva intenzione di frodare lo Stato. Cosa ne sarà adesso del nuovo super bonus? Perché già ci sono state diverse proposte di rinnovare il super bonus, la proposta degli esponenti della Lega, di Forza Italia e di Ance, vedremo che cosa succederà nelle prossime settimane, cosa consisteranno invece i sistemi di controllo se ci sarà un super bonus 2.0, questo lo vedremo, vedremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi, ovviamente vi terrò aggiornati, per cui iscrivetevi al canale YouTube, cliccando sulla campanellina rimanete aggiornati sull'uscita dei prossimi video, e se volete potete anche decidere di abbonarvi al canale, nel frattempo se ti è piaciuto il video ti chiedo di mettere un bel mi piace e di condividerlo. Ciao!